3-3-8, no, non è un prefisso telefonico ma il trittico di numeri che indica rispettivamente i punti tra le due squadre, la distanza degli Amaranto dal secondo posto e le partite, compresa questa, che rimangono nella stagione regolare. Oggi è una sliding door su un momento topico che potrebbe far allungare la banda di Cioci o costringerla a guardarsi le spalle. Tutto fa pensare ad un match scoppiettante, allora un saluto e un buon augurio di buon divertimento da Gaetano Vitale oggi e tra Stevere e Cinzialba Longa. Mentre Petti adesso alza molto il baricentro, palla di Cappai per Sivilla, riesce in qualche modo a calciare, si è immolato Giordani con un intervento da grande difensore. Pone la solita catena con Bertoldi che va direttamente in avanti, attenzione alla quasi follia difensiva, pallonetto di Alonzi! Palla sui banner pubblicitari, aspettare la seconda palla con Laurenzi che adesso torna per le preventive ma la palla arriva a Giordani! Serve un miracolo di Vilardi, le posizione stoppa benissimo, gestisce da Massimo e diventa un'azione offensiva per il Trastevere. con Tortolano nell'auto di destra, palla bassa per Alonzi che tocca, prolunga ma l'intervento del 4 Fontana a mettere in calcio d'angolo. Vicino De Angelis e anche solo, quindi palla a lui, forse anche zona tiro, stop per Sivilla! Tanto Borrelli sull'appoggio di Cappai, sposta, cross, bello per Maccari! Il colpo di testa dall'illusione del gol. Borrelli, Pietrantonio, tutto di prima e tutto al volo, grandissimo intervento di Giordani che trasforma l'azione in offensiva. La buona occasione per Tortolano che punta la porta, fa girare, troppo debole. Quindi ancora il 3. Palla orribile, follia di Laurenzi che regala a Cappai che può mandare Sivilla. L'Oporto deve recuperare ma è monito. Sivilla rimette in mezzo, palla forse per Cappai, anzi per Borrelli che calcia malissimo, palla fuori. Di Bertoldi, centralmente Crescenzo, largo Cervoni che vola sulla destra. Cosetta a rallentare perché la palla è un po' lenta, è invece buona quella proprio per il numero 7. Che stoppa, si ferma, studia. Arriva il cross sul secondo palo per Alonzi che non riesce a dare forza al colpo di testa, neanche direzione regolare. Ma la palla ce l'hanno comunque i bianchi con Maccari che spazza, Loporto deve presidiare la zona. Trova il colpo di testa ma trova insolitamente Sivilla. Quindi 3 contro 2. Sivilla guarda la porta e spara. Circunnaviga Massimo, poi trova Borrelli che pensa un attimo al cross e poi scarica per Sivilla. 3 in area per il Cinzialba Longa. La botta ancora del 7, risposta di Semprini. Intanto palla allontanata, non benissimo. Calderoni mette un buon cross, affilato. De Costanzo! Superman Vilardi, secondo intervento. Monster a tenere il risultato sullo 0-0. Via Vilardi, arriva il triplice fischio. Finisce 0-0 Trastevere Cinzialba Longa nel 27esimo turno di questo girone F di Serie D. Il Trastevere non trova per la prima volta gol in casa. Termina 0-0, un punto a testa.